Buonasera, moltissime notizie perché come sapete già da ieri la situazione internazionale ha allungato le sue ombre sull'Europa e anche sull'Italia, ma cominceremo con la questione dei migranti tra Grecia e Macedonia, oggi ancora una volta scene e situazioni intollerabili, le documenteremo, proprio nel giorno in cui i ministri degli esteri europei cercavano di riannodare il filo che dovrebbe portare giovedì a firmare l'accordo tra Unione Europea e Turchia. Già, ma l'Unione Europea guidata dalla Merkel e la Turchia di Erdogan sono proprio piagate da quello che è successo ieri. In Germania il risultato politico di una consultazione in tre land diversi sparsi nel territorio tedesco, tutti unificati però dalla stessa presenza forte, impetuosa e preoccupante della lista della destra anti-migranti che ha avuto un exploit elettorale a scapito soprattutto proprio del partito di Angela Merkel. La Merkel ha detto andiamo avanti, dall'altra parte come sappiamo la minaccia è stata di altro tipo perché il terribile attentato di Ankara ha fatto un numero impressionante di morti ma soprattutto ha fatto capire che il terrorismo interno, si indica la matrice kurda, è pronto a colpire ancora e questi sono i timori delle ore presenti. Da parte sua il regime ancora una volta il governo di Davutoglu e Erdogan hanno puntato il dito appunto sui kurdi e l'aviazione turca ha bombardato sulle postazioni dei kurdi in Siria. Proprio dalla Siria vi arriva la notizia che Putin ha deciso il ritiro quasi totale delle forze russe, missione compiuta avrebbe detto se fosse stato Bush ma da quando lo disse 13 anni fa il presidente americano quella locuzione è uscita dai radar della politica e della diplomazia. Abbiamo fatto la nostra parte, la situazione è cambiata grazie a noi ha fatto capire Putin. Ci sono altre notizie dall'estero ma come vedete è una situazione tutta in movimento e che ci riguarda anche. Però l'Italia è concentrata sui suoi problemi che riguardano un po' tutti i poli. Sappiamo quello che è successo nel centro-destra, l'affermazione però senza rivale di Bertolaso sui gazebo di Roma, la malaccorta frase pronunciata proprio nei nostri studi ieri sera fuori onda da parte Bertolaso sulla Meloni che dovrebbe fare la mamma visto che aspetta un bambino, lei ha risposto potrei fare tutte e due le cose, c'è in campo la candidatura anche di Giorgia Meloni quindi ma c'è soprattutto un centro-destra spaccato a questo punto è ben difficile che Berlusconi faccia fare a Bertolaso un passo indietro ma è ben difficile che il passo indietro lo faccia anche a Meloni, la spaccatura con Salvini come ispiratore davanti agli occhi di tutti ma vedremo anche che nel centro-sinistra il fatto che sia stata respinto anche il ricorso nazionale di Bassolino riapre le polemiche sul dopo primario in vista della stessa gara dei sindaci. Renzi del resto fa capire che la resa dei conti avverrà se si sarà al congresso tra un anno. Ma anche nei 5 Stelle c'è una questione, la questione Bedori, la candidata a Milano che si è ritirata e oggi motiva il suo gesto più ampiamente su Facebook con parole amare e accuse molto molto evidenti. C'è tanto altro, c'è anche una missione per Marte che è partita, ci sono i nostri sondaggi, c'è l'addio a Garrone, uno dei volti più noti del cinema e non soltanto del cinema. Tutto anziani, donne e bambini bloccati tra Macedonia e Grecia si sono messi in marcia tra i boschi per aggirare i blocchi dei militari, i macedoni al confine tra i due paesi, tre migranti sono annegati tentando di attraversare un fiume, almeno 2000 i profughi fermati dalla polizia. Dopo le elezioni amministrative in Germania si è visto come il partito della Merkel paghi le politiche di accoglienza dei profughi, ha perso l'11,5% del Baden-Württemberg ed è superato dai Verdi, rimane secondo a scapito da Espede in Renana e vince ma perdendo molti colpi in Sassonia. Ma la questione è che hanno vinto la loro parte pur arrivando soltanto a un successo, ma che successo? Quelli dell'ultra destra. Ma la Merkel dice non cambia la nostra linea sull'accoglienza. E dall'altra parte, dietro la strage di Ancara, la Turchia vede forti indizi che portano al PKK, all'organizzazione dei kurdi, così il premier Davutoglu dopo l'attentato che ha fatto 37 morti nella capitale e la prima reazione, raid dell'aviazione turca contro obiettivi kurdi in Siria, dove Putin ha annunciato il ritiro delle truppe russe. A partire da domani, ma una base ai navali, a parte della forza aerea, resteranno per monitorare la tregua. Il centro-destra si sfalda su Roma, la disponibilità per molti tardiva della Meloni a scendere in campo il giorno dopo la legittimazione di Bertolaso alle gaze varie, il segnale della battaglia finale tra Berlusconi e Salvini. Le nostre strade non possono che dividersi, dice il segretario della Lega, Berlusconi infuriato. Bassolino si vede respingere anche il ricorso nazionale e se la prende con parole dure, mentre Renzi dice il dibattito sulle primarie è surreale. Ci vediamo se mai al congresso l'anno prossimo. Sul fronte 5 Stelle, amaro sfogo dell'ex candidato sindaco di Milano, Bedori, ritirata ieri, mi avete chiamato casalinga, disoccupata, brutta, grassa, ha detto, ma ha precisato di non aver avuto nessuna pressione da casaleggio per lasciare. Buonasera, è un filo che si dipana attraverso l'Europa, a partire però, come sappiamo, dalla Siria e dalla Turchia. È sempre la stessa questione, una guerra civile, un paese a sua volta in tensione e colpito dagli attentati, un punto di frattura che sta tra la Grecia e la Macedonia. E un paese, quello che ha avuto la forza di un'accoglienza maggiore, la Germania, è che scopre nelle urne che una parte del paese non è d'accordo. Partiamo dai domeni, che è la capitale di quell'Europa che ha avuto l'Esbo, ma anche l'Ampedusa, come principali punti di esplosione, prima di questo paese, al confine tra la Grecia e la Macedonia. Ci sono immagini che sono più forti di qualsiasi frase o proclama, ci sono momenti di una storia complessa e drammatica, come quella dei migranti, che possono cambiare quella storia o almeno possono spingere chi deve decidere a fare in fretta. Quello che è accaduto oggi al confine tra Grecia e Macedonia è uno di quei momenti. Una corda tesa tra una sponda e l'altra dal fiume Suvareca. Centinaia, migliaia di profughi che attraversano in mezzo alla corrente per aggirare il blocco Macedon ai domeni, per proseguire il loro viaggio sulla rotta balcanica verso la speranza europea. Donne anziane che a stento riescono a stare in piedi, costrette a una prova di coraggio ed equilibrio difficile anche per un ragazzo in piena salute. Bambini appena nati che passano da una mano all'altra, carrozzine, padri e madri con in faccia l'espressione disperata di chissà di mettere in pericolo la vita propria e soprattutto dei figli, ma non ha alternativa. Dopo l'immagine dell'anno del neonato fatto passare oltre il filo spinato alla frontiera ungherese. Ecco un'altra sequenza che non mancherà di suscitare sdegno, indignazione sotto una pioggia torrenziale. I profughi si sono messi in marcia dal villaggio di Domeni di Buonmattino, stanchi di un'attesa interminabile. Il punto migliore per passare il fiume ed entrare in Macedonia è a 10 chilometri nei pressi del paesino di Camilo. I poliziotti greci hanno provato, con pochissima convinzione, a fermare la folla di migranti ma poi hanno lasciato fare. Poco lontano da lì tre afghani, tra cui una donna, non ce l'hanno fatta, sono stati trascinati dalla corrente nel tentativo di attraversare un torrente. Sono annegati e i loro corpi ripescati poco più a valle. Dall'altra parte del fiume poi l'esercito e la polizia macedone non hanno certo mostrato comprensione, bloccando almeno 2000 profughi che speravano di poter proseguire verso nord per rispedirli da dove sono arrivati, in Grecia. Sono immagini che rischiamo di dover vedere tutti i giorni e rispetto alle quali non possiamo voltare la testa. È vero, le reazioni sono quelle che abbiamo visto anche nelle urne di ieri, nei tre land tedeschi in cui si è votato. Ma non a caso la Merkel ha detto questo pomeriggio che la linea dell'accoglienza non cambia. La rotta non cambia, la vera alternativa non è la xenofobia, è il mio governo. Sui profughi andrà avanti sulla stessa linea, a casa e in Europa. Sono le parole chiave della cancelliera tedesca sul voto amministrativo di ieri nonostante la batosta. Un'altra donna, Frauke Petri, ha guidato la destra populista di alternativa per la Germania all'impressionante successo in Renania, palatinato Baden-Württemberg e Sassonia. Alle ultime politiche il partito nemmeno esisteva e passare dal nulla al 10% di media col 24, addirittura in Sassonia è un segnale fin troppo evidente. C'è un elettorato tedesco per il quale il milione di profughi arrivato in Germania nel 2015 rappresenta una minaccia e un pericolo. La gente ci stava aspettando, ha commentato Petri, siamo arrivati e rappresenteremo all'opposizione chi sull'immigrazione ha idee diverse. Calano ovunque i cristiano-democratici, anche se in Sassonia vincono, ai social-democratici del vice cancelliere Gabriel va ancora peggio e se la maggioranza di governo mantiene il controllo dei lender, la breccia della destra, non estremista, che guarda al centro, in Germania, è comunque ormai aperta. Ieri è stato un giorno pesante per noi, ammette Merkel, a dominare è stato il problema dei migranti, vuol dire che agli occhi del popolo la questione non è stata risolta in modo soddisfacente. Un voto di protesta, insomma, frutto della paura, sempre cattiva consigliera, ma appunto alla soluzione europea condivisa non c'è alternativa. È vero che la recentissima chiusura della tratta balcanica ha giovato alla Germania con meno arrivi da est, ma sulle lunghe distanze serve altro. Sono situazioni difficilissime quelle di fronte alle quali si trova l'Europa. Oggi la riunione dei ministri degli esteri giovedì ci dovrebbe essere il vertice, ma lo dicevo prima, l'Europa a guida tedesca ha scoperto ancora una volta di più il problema del consenso a un'azione che sia comprensiva nei confronti della esplosiva questione migranti. Ma esplosiva per chi deve fare quell'accordo giovedì con l'Europa, la questione lo è da ben altro e più diretto punto di vista. La Turchia ha scoperto ancora una volta quella che è stata una piaga endemica del suo passato, il terrorismo interno. Il giorno dopo l'incubo della Turchia sono quelle 20 auto che risultano rubate e che secondo i servizi segreti potrebbero essere utilizzate per compiere nuovi attentati. La polizia ha fermato 11 persone, le sta interrogando, ma le autorità turche non hanno dubbi. Anche se finora non c'è stata alcuna rivendicazione, i due attentatori kamikaze che ieri ad Ankara si sono fatti esplodere erano con molta probabilità legati al partito kurdo o comunque alle TAC, il ramo più oltransista del movimento, contrario a qualunque trattativa. Il premier Davutoglu ha spiegato di aver ottenuto prove serie, quasi certe che il PKK sia l'autore dell'attentato. Secondo quanto ricostruito dall'esame del DNA, uno dei due attentatori era una studentessa di 24 anni, già condannata in contumacia insieme a quattro amiche per essere membro e avere svolto attività di propaganda a favore del PKK. Dell'altro kamikaze al momento si sa poco, se non che era un cittadino turco legato anche lui allo stesso movimento separatista per il quale simpatizzava l'altra terrorista. La sola capitale turca per la terza volta negli ultimi cinque mesi dunque piange ai suoi morti. Questa mattina sono stati celebrati nel cimitero Karsikaia i funerali di 10 delle 37 vittime dell'attentato, almeno 125 feriti che si trovano ancora ricoverati negli ospedali, alcuni in condizioni anche molto gravi. Come annunciato, intanto è scattata la dura reazione di Ancara, l'aviazione turca ha colpito i depositi di munizioni di rifugi dei militanti kurdi che si trovano nella nord dell'Iraq, dichiarato anche il coprifuoco in tre città del sud-est del paese a maggioranza kurda per facilitare le operazioni militari. La guerra tra le autorità turche e i separatisti kurdi va avanti dallo scorso luglio, da quando è saltata la tregua che era in vigore da due anni e mezzo. E' chiaro che la Turchia è il punto in questo momento su cui l'Europa poggia, è dalla Turchia che filtreranno i vari emigranti, è lì che torneranno quelli che l'Europa respingerà. Questo secondo è la bozza di accordo che però deve diventare accordo ufficiale giovedì e venerdì i prossimi. E sotto questi auspici sarà tutto molto, molto più difficile. Tanto più che la situazione siriana, abbiamo visto i bombardamenti, resta l'origine di tutto. La tregua sembra però reggere e oggi c'è un altro fatto nuovo, di un'ora fa. Vladimir Putin ha annunciato l'inizio del ritiro delle forze russe dalla Siria. Gli obiettivi sono stati raggiunti, ha detto il presidente russo. Poche parole, succo storico di un incontro con i suoi ministri della difesa e degli esteri. Il Lavrov fedelissimo, il mediatore istancabile. Ha parlato al telefono con Assad con cui ha concordato l'avvio delle operazioni da domani, quel martedì 15 marzo da segnare sul calendario. Cinque anni dopo l'inizio di una guerra che il mondo ha imparato a conoscere. Mezzo milione di morti e un fiume umano inarrestabile di chi da quella guerra fugge. Era il 15 marzo 2011 e a Damasco si scendeva in piazza contro il regime. Finisce nel sangue. Certe date non possono essere casuali. Domani è il 15 marzo. Putin spiega bene l'avvio di un ritiro. Resteranno due basi operative, una aerea nella provincia di Latakia. I jet restano per monitorare la tregua, viene chiarito. L'altra navale nel porto di Tartus. Mosca continuerà a sostenere Damasco. Ai siriani venderà ancora armi. Devono continuare a difendersi, dicono. L'intervento militare di Mosca in Siria ha ribaltato la situazione nella lotta ai terroristi sul terreno, spiegano insieme Putin e Assad. Prendendo le armi asciuttissime dell'aerotolica militare, parlano di considerevole danno per i nemici. Assad ha detto a Putin di essere pronta a iniziare il processo politico nel paese al più presto possibile. È questo che riporta il Cremlino. Insieme hanno espresso la speranza che i negoziati a Gilevra possano produrre effetti concreti. Da domani, 15 marzo, forse di un nuovo anno, sul calendario internazionale. Si vedrà freddissima la reazione di Washington, che a quanto pare è stata colta totalmente di sorpresa dall'annuncio di Putin, che certo toglie un elemento ostativo al raggiungimento di una pace più duratura e prolungata. Non c'è più l'evidente mano di Mosca a copertura e a protezione del regime di Assad. Ma ora le trattative devono decollare e c'è sempre quel piccolo problema dell'ISIS che spadroneggia in una parte della Siria e, come abbiamo visto, di quella che è una vera e propria guerra privata tra curdi e turchi, là dove non ci dovrebbe essere questo tipo di ulteriore conflitto. Peraltro ieri c'è stato un altro attentato di cui tanto si è parlato in Costa Lavorio, che fa capire come il terrorismo di matrice islamista voglia continuare a tenere altissima la tensione, soprattutto nell'Africa francofona. Le vittime nel bilancio definitivo sono 18 e tra di loro 4 sono francesi. Non è un caso che probabilmente proprio, soprattutto alla Francia, ancora una volta mirava l'azione terrorista. C'è una vicenda però che ci riguarda e la diciamo subito, la vicenda Regeni. Stanno già tornando in Italia, a Roma, il procuratore capo della capitale Pignatone e il suo aggiunto che sono andati al Cairo per incontrare le autorità giudiziarie della capitale egiziana sul caso di Giulio Regeni. Ebbene, a quanto pare, si attende un comunicato che potrebbe arrivare di minuto in minuto, c'è già un'intesa molto forte sullo scambio di documenti. Di più non si è saputo. Sono tante, come vedete, le questioni internazionali, ma come spesso accade la politica italiana guarda al suo interno, qualcuno dirà al suo ombelico. In realtà guarda a una scadenza che può essere importante per lo sviluppo politico interno, cioè le elezioni per i sindaci, in vista delle quali, come sappiamo, si sono spaccati i poli principali. A cominciare clamorosamente dal centrodestra, su Roma. Il centrodestra va in pezzi su Roma. Il passo avanti della Meloni, infatti, non produce il passo di lato di Bertolaso e tra gli alleati è gelo. Berlusconi è infuriato. Nelle stesse ore in cui venivano diffusi i dati delle gazebarie del weekend, circa 50.000 voti che avrebbero dovuto blindare la candidatura a sindaco della capitale di Bertolaso, la Meloni ha messo sul piatto la sua disponibilità a scendere in campo, rovinando la festa. Fuori tempo massimo la considerazione che gira tra gli azzurri. Da qui il rifiuto del nuovo schema di gioco. Naufraga l'incontro a tre, chiesto dalla Meloni. Gli ex alleati oggi sembrano separati in casa. Se c'è muro contro muro, le nostre strade non possono che dividersi la linea della Lega e Salvini ieri è tornato a dichiarare il suo appoggio alla Meloni, che a questo punto resta con il cerino in mano. La sua candidatura, che effettivamente avrebbe potuto unire, arriva troppo tardi e a questo punto rischia di dover scegliere se seguire Salvini o Berlusconi. Il leader azzurro, infatti, ha messo la sua faccia sulla candidatura di Bertolaso, girando tra i banchetti tutto il weekend. Una retromarcia ora avrebbe il sapore di una resa politica agli alleati. In gioco non ci sono solo le città al vuoto, ma la leadership del centrodestra e Berlusconi non sembra disposto a cedere tanto facilmente allo scettro della coalizione. E' infatti ricordato a Salvini che a Roma i suoi numeri sono ridicoli e non può dettare legge, chiudendo in anticipo la porta alla Meloni. Non è più tempo per la discesa in campo di un politico a Roma. Bertolaso, del resto, forte dell'appoggio di Berlusconi, da ieri spara a zero, gaff compresa. La Meloni faccia la mamma, ha detto per bocciare la sua candidatura. Posso fare anche il sindaco la risposta, seguita da scuse e precisazioni da parte dello stesso Bertolaso. Ma il caso ormai è esploso e sul candidato azzurro si scatenano le polemiche. Se c'è uno spazio per il ritiro di Bertolaso, suggerisce un insider forzista e contenuto in quella gaffa. In molti drizzano le orecchie, infatti, quando l'ex capo della protezione civile dichiara se la Meloni sarà la candidata di tutto il centrodestra, mi ritiro. Disponibilità a fare un passo indietro? Di certo sono le stesse parole usate dalla leader di Fratelli d'Italia ieri per azzoppare la sua candidatura, consapevole del fatto che le posizioni dei tre ex alleati sembrano ormai inconciliabili. L'altra spaccatura, come sappiamo, è avvenuta negli ultimi tre giorni dentro al Partito Democratico e trova oggi un altro piccolo capitolo, piccolo ma neanche tanto, nel respingimento immediato anche del nuovo ricorso di Bassolino. La prima dura verifica interna del PD sarà tra una settimana in direzione e riguarderà anche il tema caldissimo delle primarie. A Napoli è stato respinto il nuovo ricorso di Antonio Bassolino sulla presunta compravendita di voti. L'ex sindaco chiedeva di rivotare nei cinque seggi in cui le immagini del sito fanpage avevano ripreso possibili irregolarità. A Napoli non ci sono stati brogli il verdetto della Commissione di Garanzia del PD, decisione che non chiude affatto il caso. Non se ne possono uscire così a una presa in giro il commento via Twitter dell'ex sindaco. Sono comunque pronto a presentarmi, aveva già lanciato la sfida prima ancora della bocciatura. Ma la scadenza a cui tutti pensano è un'altra, per la resa dei conti ci si vede al congresso nel 2017 fissa l'appuntamento con la minoranza Matteo Renzi. Per affrontare quello che definisce un dibattito surreale sulle primarie, il segretario premier si affida alla sua pagina e-news con un avvertimento velenoso. Ricordo che quando ho perso le primarie nel 2012 molti dei miei amici volevano fare ricorso perché in intere regioni c'era la poco simpatica abitudine di bruciare schede e verbali senza la possibilità di ricontare. Allora presi il microfono e dissi la verità, che avevo perso. Può accadere di perdere e solo chi sa perdere potrà imparare a vincere le parole di Renzi. Nel suo mirino l'ex segretario Bersani, che a Renzi aveva tra l'altro rimproverato di voler buttare fuori un pezzo di partito, ma anche Massimo D'Alema. La polemica di oggi è stata originata da una evidente falsificazione, interviene D'Alema. L'intervista al Corriere della Sera di venerdì scorso è stata presentata come un intervento che fa appello alla scissione, mentre ho solo sollevato una serie di preoccupazioni e posto dei problemi politici. Precisa l'ex Premier. Il mio è stato solo un appello ad una riflessione politica sul pericolo che una parte importante del nostro elettorato non si riconosca più in questo partito. Le parole ancora di Massimo D'Alema. Da tempo indicato come il favorito nella corsa di Roma, competitivo sicuramente a Torino, il Movimento 5 Stelle si ritrova addirittura senza candidato sindaco a Milano e per di più con una coda amara. Dopo il ritiro, ieri sera, oggi è il giorno dello sfogo per Patrizia Bedori, ex candidata del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Milano. A novembre aveva vinto la consultazione con 74 preferenze su 300 voti. Mi voglio togliere qualche sassolino dalla scarpa, mi avete chiamato casalinga disoccupata brutta e grassa, scrive su Facebook in un lungo post in cui fa anche i nomi di quelli che l'hanno criticata e offesa. Sappiate che io non ero in cerca di una cadrega, di una poltrona, scrive ancora la Bedori. Probabilmente entrerà comunque nella lista dei candidati al Consiglio Comunale. Potrebbe anche servire un nuovo voto online ora per certificare la scelta del sostituto. La Bedori smentisce le voci girate da mesi di pressioni di Casaleggio per costringerla a lasciare. È stata la pressione mediatica, con me hanno usato la macchina del fango, attacca la Bedori. Si dice che Casaleggio non avesse digerito le uscite della Bedori sui Rom, bisogna integrarli e sulle moschee, non una grande ma una piccola in ogni quartiere, ma in realtà l'ex candidata non piaceva alla base stessa. In altre città i 5 Stelle si sono mossi bene nella scelta dei candidati, ma temo che a Milano siano fuori chiave, la ragazza che è stata scelta mi preoccupa molto, aveva detto Dario Fo. Meno appid mediatico delle candidate di Roma e Torino, Virginia Raggi e Chiara Appendino, la campagna elettorale della Bedori finora stentava a decollare. Milano è una partita più difficile di altre per i 5 Stelle, già in partenza, alle ultime comunali 5 anni fa presero il 3% e un solo consigliere, alle regionali del 2013 raccolsero il 13%, quasi la metà della media nazionale del Movimento. Faccio un passo di lato, ha ripetuto oggi la Bedori, citando Grillo. Vediamo come andrebbero le cose, molto velocemente perché c'è altro da raccontare in questo telegiornale. Se si votasse oggi secondo il nostro sondaggio, il PD riguadagna lo 0,5%, al 31,7%, perde lo 0,2%, il Movimento 5 Stelle al 26,4%, la Lega perde lo 0,3%, al 14,6%, più 0,1%, al 12,6% per Forza Italia, meno 0,4%, al 4,4% per Fratelli d'Italia, stazionaria 4%, sinistra italiana, più 0,1%, al 3,1% per il nuovo centrodestra, gli indecisi restano uguali, la stensione perde lo 0,4%, resta alta al 39,1%. Ma se si votasse con il centrodestra unito, un'ipotesi in questo momento molto, molto lontana per quello che abbiamo appena sentito, lo stesso centrodestra andrebbe probabilmente al ballottaggio con il Partito Democratico, che è al 31,8%, il centrodestra unito sarebbe nelle indicazioni di voto al 31,1% e il Movimento 5 Stelle, come vedete, al 27,8%, ma se si andasse al ballottaggio tra 5 Stelle e Partito Democratico, ancora sarebbe di un'incollatura avanti, 50,3%, 49,7%, proprio il Movimento fondato da Beppe Grillo. Il PD vincerebbe nettamente 53,47% nei confronti del listone di centrodestra, che soccomberebbe anche più o meno con la stessa distanza nei confronti dei 5 Stelle. È una situazione che appare bloccata nel senso masia che vediamo che chi non vota non ha ancora scongelato la sua perplessità e chi vota ormai è orientato. Sì, non ci sono quasi mai, almeno in quest'ultima settimana, grandi oscillazioni e si vedono sia a livello di primo turno e anche a livello di ballottaggio con il PD che conferma la sua forza contro il centrodestra e un sostanziale equilibrio al ballottaggio eventuale se dovesse passare al Movimento 5 Stelle, anche se i numeri in questo momento certamente non sono così promettenti per quanto riguarda i pentastellati. Senta Masia, noi ci vediamo direttamente lunedì prossimo, visto che non c'è molto altro da dire, magari cominciamo a cercare di capire meglio, ora che si conoscono quasi tutti i candidati, come può andare nelle città, se lei è d'accordo. Va bene, ci vediamo lunedì prossimo. A lunedì prossimo vi devo dire, cari telespettatori, che le notizie sulle illegalità sono quotidiane, questo lo sapete da tempo, ma oggi si arricchisce tutto il bestiario di una nuova specialità, le mazzette contenute nei pacchi dono di Natale, nei cesti, e questo l'ultimo passaggio insieme ha la notizia di altri arresti nello scandalo della giustizia tributaria. Due giudici tributari, un avvocato e un commercialista, sono stati arrestati oggi, sono finiti ai domiciliari, l'accusa era ancora quella di aggiustare i processi appunto a suon di mazzette. Gli arresti si aggiungono a quelli del giudice Vassallo e della sua collega Seregni delle settimane scorse. Al centro dell'inchiesta della procura di Milano c'è ancora quella figura Vassallo. Questa volta avrebbe preso un imprenditore, anche lui in carcere, avrebbe preso dall'imprenditore una tangente da 60 mila euro che avrebbe poi spartito con altri colleghi. Vedremo nei giorni prossimi se verrà fuori qualcos'altro. Ma dobbiamo parlare di un volto popolarissimo che avrete visto tante volte e che non vedrete più. Non è da tutti, da tutti gli attori, cominciare la cadera con un film che si intitola Adamo ed Eva e finirla interpretando San Pietro tra le nuvole del paradiso. A Riccardo Garrone è capitato proprio questo, quasi a chiudere nel più celestiale, diciamo così, dei modi una storia professionale lunga 60 anni, fatta di 100 e passa film. Con registi di tutti i tipi, Dino Risi, Federico Fellini, Mauro Bolognini e tanti altri dimenticati, con attori di ogni genere ma con attitudine spiccata per la commedia. Quella all'italiana, naturalmente di cui Garrone si può dire abbia conosciuto vita, morte e miracoli. Da Aldo Fabrizi a Alberto Sordi, da Franco Franchi a Paolo Villaggio, fino a Ivanzina di Vacanze di Natale, il cui copione gli mise in bocca una battuta che forse poi nei panni di San Pietro non avrebbe tanto apprezzato. Anche questo Natale ce lo siamo levato dalle valle. Di nascita Garrone era romano, aveva alle spalle l'accademia, ha fatto tanto teatro, era in grado di parlare praticamente tutti i dialetti, anche se poi alla fine a trascinare e a fissare definitivamente la sua popolarità anche nelle generazioni più giovani è arrivata la pubblicità, in un set dove lui, dato il ruolo, quello di San Pietro, era l'unico a non poter parlare in dialetto. Pietro, il suo caffè. Facciamo in tempo solo a vedere le immagini velocissimamente della partenza di una spedizione spaziale, senza uomini ovviamente, senza esseri umani a bordo, che però dovrà avvicinarsi e molto cercare di scoprire di più in otto mesi sul pianeta a noi più vicino, quello che ha suscitato la maggiore fascinazione sempre tra di noi, ovvero Marte. C'è molta Italia anche nella tecnologia che è andata nello spazio con il lancio di oggi. Speriamo proprio di avere modo di parlarne nel momento in cui avremo qualcosa davvero da raccontare su Marte, sui suoi misteri, sulla speranza che tutto sommato tutti hanno che ci siano forme di vita anche lì e non soltanto da noi sulla Terra. Dopo di noi, a otto e mezzo, Lillie Gruber ospita il presidente della Camera, Laura Boldrini, insieme a Marco Damilano. Poi da questa sera, ricordatevelo, torna a lunedì Piazza Pulita. Corrado Formigli ospita Enrico Zanetti, Barbara Lezzi, Antonio Di Pietro, Tommaso Cerno, Fabio Picchi, Nunzia De Girolamo, Roberto D'Agostino, Alessandro De Angelis e Gianluigi Nuzzi. Ci fermiamo. Poco variate le borse in apertura di settimana, Milano ha chiuso con un meno 0,03 più 0,31 in questo momento il Dow Jones a New York, Nasdaq più 0,17 è tutto. Gruber, poi Formigli, appuntamento a domani, buonasera.